Buongiorno, a quattro anni dalla mia uscita dalla RAI torno a dedicarmi a tempo pieno al mestiere almeno per me il più bello ed il più gratificante del mondo. Consapevole anche del compito non facile ma davvero entusiasmante affidatomi dal Presidente e dal Direttore Generale di questo importante network calabrese, Domenico Maduli e Maria Grazia Falduto, cui rinnovo i ringraziamenti per la stima e la fiducia riposta in chi vi parla. Sono stato chiamato per imprimere maggiore autorevolezza e maggiore credibilità all'informazione della C. Lo farò al massimo dell'impegno, delle mie capacità e della mia lunga esperienza professionale, maturata in una regione dalle mille contraddizioni ma anche dalle enormi e positive potenzialità, a volte inespresse per incuria, disattenzione, colpe locali e nazionali. Le sfide mi affascinano e mi caricano, questa più di ogni altra, che affronterò non da solo ma con il contributo essenziale e determinante della squadra di la C, giornalistica e tecnica, eredito dal collega Pietro Comito che si riappropria con entusiasmo e grande disponibilità del suo ruolo di inviato una redazione semplicemente straordinaria, composta da giovanissimi talenti, ragazze e ragazzi con il fuoco dentro, animati dalla volontà di costruire qui e non altrove il proprio futuro, magari attraverso il progetto realizzato fin qui con enormi sacrifici anche economici dall'editore. Con loro racconteremo la Calabria che più ci piace, quella della modernità e dell'innovazione. Con loro daremo voce e visibilità a chi non ne ha. Nella giusta misura e con assoluta indipendenza racconteremo la politica e le sue istituzioni, che vorremmo sempre più proiettate all'affermazione del bene comune e non degli interessi particolari o peggio privati e personali. Racconteremo con uguale equilibrio le vicende del sindacato, delle organizzazioni imprenditoriali di categoria, economiche e sociali, culturali, del mondo delle professioni, della Chiesa. Insomma, di tutto ciò che si muove in una Calabria che va sostenuta ed aiutata nella sua ansia di crescita e di sviluppo per consentirle, anche attraverso una informazione libera e plurale da servizio pubblico, di abbandonare finalmente gli ultimi posti delle gradatorie di ogni settore, con un'aspirazione su tutte, creare non più a chiacchiere ma con i fatti concreti le condizioni per il rientro di migliaia di giovani cervelli e non solo, in fuga dalla Calabria perché costretti, in assenza di opportunità, ad emigrare anche all'estero pur di dare sfogo ai loro sogni. Con questo spirito propositivo comincia dunque la mia nuova avventura qui alla CTV. Un carissimo saluto va a quanti ci seguono.